La questione multi-utility continua a tenere banco, da qui passa infatti il futuro della gestione dei servizi in Toscana, energia, acqua e rifiuti, che progressivamente dovranno andare in capo alla nuova maxi-società nata dalla fusione di Alia, Publiacqua, Consiag, eccetera eccetera. Il problema sta in come dare gambe e corpo a questa nuova creatura e su questo dibatte la politica. L'idea alla base del progetto era quella della quotazione in borsa per una percentuale non superiore al 49%, in modo da tenere la maggioranza in mano pubblica. Ma una parte del PD e della sinistra, a partire dal segretario Fossi, è contraria a questa idea. Sul dibattito è entrato anche il presidente della regione Gianni, che in risposta a un'interrogazione del consigliere forzista Marco Stella ha tentato, ancora una volta, di tracciare una terza via più attendista. In prospettiva, quando si va a realizzare un soggetto di questo genere, la collocazione in borsa diventa un elemento fondamentale per creare una raccolta di risorse che danno potenza a queste società. Probabilmente non è ancora questo il momento, perché la holding la dobbiamo fare, la multidibili deve comporsi nel disegno di carattere regionale che io ho e quindi in questo momento probabilmente è preferibile magari un azionariato diffuso. Però è indubbio che è uno scenario che nel medio e lungo periodo si pone e sotto questo aspetto io lo contivo. Per il governatore, in sostanza, si può immaginare di finanziare la multiutility in due step, prima magari con un azionariato popolare, come suggerito dal sindaco di Scandicci Sandro Fallani, e un domani con l'approdo in borsa. Tuttavia la posizione in chiaro scuro di un PD oggettivamente diviso su questo tema attira numerose critiche e non solo dall'opposizione. Abbiamo fatto un programma, abbiamo detto che quello doveva andare in borsa e non abbiamo cambiato idea noi. Ha cambiato idea il Partito Democratico. C'era da dare uno scalpo politico dopo l'elezione di Emiliano Fossi alla sinistra che aveva vinto e quello scalpo era la borsa. Per il centrodestra è il consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia a rispondere a Gianni. Il presidente ha preso le distanze dal suo partito che ha posto il cappello ideologico sulla gestione della società, ha detto. Le attuali concessioni andranno in scadenza, ha proseguito e dovranno essere messe a gara. E se vogliamo mantenere questo assetto c'è bisogno di costituire un soggetto industriale pubblico che abbia la forza di competere con i colossi che già si stanno affacciando alla Toscana. Per quanto ci riguarda, ha concluso poi Petrucci, la Multi Utility dovrà avere come obiettivo primario l'abbattimento dei costi e dei servizi pubblici, che sono sempre più insostenibili per imprese e famiglie.